Per noi il territorio, la comunità in cui operiamo è tutto, nel senso che nasciamo come luogo per le donne, per dare opportunità di informazione e inserimento lavorativo a donne in situazioni di vulnerabilità e la nostra risposta vuole essere una risposta ai bisogni della comunità del territorio. Quindi a seconda proprio di dove operiamo, adattiamo anche la nostra proposta di servizi e attività. E questo lo facciamo in ognuno dei nostri spazi laboratori, in uno dei luoghi in cui si crea una sinergia con i cittadini, le cittadine, le altre imprese, piccole imprese e attività che vivono nel nostro stesso quartiere. L'attenzione che sicuramente dedichiamo al territorio è centrale. Il territorio è quello che ci ha permesso di crescere e di fiorire. Reims è un'azienda fortemente radicata nel territorio, siamo presenti dal 1936, seppur solamente dal 1943 sul territorio di Sirene. La vicinanza con la comunità ci ha permesso appunto di raggiungere i traguardi che abbiamo raggiunto adesso, essere un'azienda di riferimento per il nostro settore specifico che è la produzione di lampade per sale operatorie. E in che modo possiamo dimostrare la centralità e l'attenzione verso la comunità? Sicuramente dalle scelte che abbiamo intrapreso, soprattutto nell'ultimo periodo, con la trasformazione in società Benefit e l'ottenimento della certificazione di corpo. Perché questi due momenti, non tanto in sé, ma rappresentano, e proprio nella loro capacità di rappresentare un cambiamento, sono molto importanti e dimostrano la nostra centralità. Come società B Corp e come oggetto sociale durante la trasformazione Benefit, poniamo la comunità al centro, impegnandoci formalmente a prendere almeno il 60% delle materie prime, in un raggio di 30 km, a fronte di un obiettivo reale, perché i dati parlano di il 90% già rifornito entro 80 km. Per noi è parte integrante della nostra regione, e per noi è parte integrale. Infatti, come l'Italia, speriamo che per il nostro 100% termine sia necessario in maniera fortuna e sostenibile, nell'ambiente e nella scelta che ci si tratta. O degli impegni fondamentali per noi è sicuramente quello relativo ai progetti sociali e locali. Infatti, collaboriamo con delle ove intenzioni di New Profit, di fondamentali per la Città di Rio Grande, che si occupano dell'instituazione a livello lavorativo, di produzione netta, delle donne, delle culture e delle altre bellezze. Siamo, comunque, grandi andari nell'infermazione per l'infermazione per l'infermazione per l'infermazione perché abbiamo costruito con soltanto bellezza per le donne, ma anche per le donne.